Salve cittadini sono Leo Bike, breve video per spiegarvi che magari molti non lo sanno come mettere l'impostazione del mio canale youtube una volta iscritti in modo tale da non perdervi nessun video che farò uscire adesso ve lo spiego ecco in poche parole voi vi iscrivete al mio canale premendo appunto il tasto iscriviti dopodiché vi comparirà una campanella a destra si cliccate sopra e selezionate l'opzione tutte una volta fatto questo vi arriverà un messaggio da youtube che potete vedere in basso con scritto riceverai tutte le notifiche vale a dire che ogni volta che io caricherò un video questo video vi arriverà come notifica ovvero youtube vi informerà che avrò fatto questo video che l'avrò pubblicato e quindi in automatico riceverete la notifica del mio video da youtube sul dispositivo su cui vi siete iscritti grazie per la visione